giorni eh basta con i ringraziamenti e ora lancio la sfida eh sembrerà un po' retorico ma se Cristo si è fermato a Eboli io penso che da oggi noi dobbiamo riprendere un percorso per il sud verso sud vado per sintesi quattro i punti dobbiamo essere dobbiamo uscire da questa conferenza facendo nostra l'idea dell'esecutivo contro ogni autonomia differenziata della costruzione di un controvertice al vertice di Sorrento dobbiamo secondo punto creare spazi di discussione territoriale creare laboratori regione per regione provincia per provincia perché abbiamo l'esigenza di spargere semi di consapevolezza non tra di noi ma nelle città tra la gente in connessione con le classi popolari dobbiamo costruire contropotere perché in qualche maniera possiamo dire che la nostra sperimentazione verso un nuovo sud è di rottura totale con questo sistema di rottura totale in quello che il contesto capitalismo vita o stai con il capitalismo o difendi la vita in ogni sua funzione e allora costruire attraverso quegli spazi contropotere nell'articolazione del mutualismo dell'antimafia sociale del conflitto della e della lotta perché laddove il capitalismo moltiplica lo sfruttamento di fronte alla moltiplicazione dello sfruttamento noi dobbiamo moltiplicare la nostra opposizione senza migliazione ma come ci ha detto Gianni Fabris con l'autorappresentazione e l'auto organizzazione noi dobbiamo rappresentare noi stessi le nostre lotte ultimo punto cento piazze per il sud cento piazze che articolano quella che è la nostra critica sulla sanità sull'autonomia differenziata su quella che è la nostra condizione esistenziale con delle proposte e la prima proposta è che queste questa idea della costruzione di queste cento piazze per il sud venga fatta propria da quella che sarà l'assemblea di sabato nove per il lancio di questa coalizione popolare una coalizione che si mette in campo per costruire e cambiare perché non è vero che tanto nulla cambierà e perché uniti ce la possiamo fare grazie a tutte e tutti buon ritorno a casa grazie ancora ai lavoratori e alle lavoratrici di questa due giorni grazie grazie a tutti